Particolarmente importanti. Allora, comincerei da te Dario. Putin dice che gli attentatori arrestati avevano una fia di fuga predisposta sul fronte ucraino. Quindi la prima cosa che colpisce di questo suo messaggio è che non nomina lo Stato islamico, e quindi non è che dice è lo Stato islamico, quindi in questo momento quasi dimentichiamo l'Ucraina, concentriamoci di mangiare, c'è quasi un'allusione al fatto che gli ucraini possono in qualche modo essere complici. E' così? Sì, esattamente così. Putin decide di parlare dopo 19 ore. Quindi non si può dire non ha voluto esprimere la responsabilità non attribuendola allo Stato islamico perché è presto, cioè non voleva essere superato da altre notizie di intelligence che potessero scavalcarlo con altri colpevoli, come se avesse parlato mezz'ora dopo, tre ore dopo, ovviamente era impossibile. 19 ore dopo ha ponderato ogni singolo vocabolo e decide di omettere lo Stato islamico qualsiasi del Corasan nello specifico e dice, come tu raccontavi, questi li abbiamo fermati, scappavano verso l'Ucraina. L'Ucraina voleva, intende dire, voleva dare come rifugio una finestra di fuga a questi signori. E poi aggiunge, sparavano come nazisti. Noi sappiamo non solo che nella oleografia russa, anche comprensibile, il nazismo è un richiamo alla grande guerra patriottica, ma è stato usato moltissime volte, quasi ogni giorno da quando è scoppiata la guerra, 24 febbraio del 2022, nei confronti degli ucraini. Il regime nazista, che pensa da nazista, che agisce da tale, contro il quale dobbiamo realizzare l'operazione militare speciale. Utilizzare questa attribuzione, definiamola così, quasi se fosse una questione di tecniche militari o di costume o, ancora peggio, di cultura, ai soggetti che non nomina, ma che definisce nazisti, è un richiamo neppure troppo implicito per l'opinione pubblica russa, a dire, saranno anche questi altri i nemici, ma non dimentichiamoci che al grosso della nostra partita si gioca in Ucraina e da qui tutta una serie di speculazioni su come vorrà utilizzare nella sua risposta, nella conseguenza. Ma tu invece ti saresti immaginato, io nella mia ingenuità avrei immaginato che lui dicesse c'è un attacco, lo dicono loro, quelli dello Stato tedesco, ai cristiani, perché loro hanno detto così, e in questo momento questa è la priorità, quasi dire, no, concentriamoci tutti lì, invece lui non fa, non compie questa scelta, compie una scelta totalmente opposta. Te l'aspettavi? Sì, non me l'aspettavo, la vedo come te, io anche pensavo che lui utilizzasse, in senso paracristiano, definiamolo così, come è solita la propaganda putiniana, come a dire il nemico vero è questo, però mi pare evidente che per Mosca la partita si gioca tutta in Ucraina e lui voglia utilizzarla soprattutto lì, in che modo? Si prende le, inevitabile, per carità legittima, ci mancherebbe testimonianze di solidarietà dai governi occidentali, sebbene non si citi mai Putin nei vari comunicati, cioè solidarietà alla popolazione russa, è contro il terrorismo, ci mancherebbe pure, e lui da lì vuole segnalare una sorta di possibile negoziato, sempre secondo i suoi termini, cioè questa è roba nostra, voi dovete arrendere, venite più le armi agli ucraini, eccetera, e allo stesso tempo vedremo se, più che utilizzarlo contro il terrorismo, il nemico comune, anche se Massimo può anche farlo nel secondo tempo, nel secondo, terzo, quinto intervento, cioè non lo escluderei a priori, però non lo ha fatto come focus principale, allora ci viene in mente che possa utilizzare tutto questo anche per giustificare un montante attacco sull'Ucraina, cioè un incremento, non solo di climax retorico, ma proprio di attacco militare, come per dire questi signori volevano addirittura coprire terroristi islamici, non abbiamo contezza, però questo va raccontato. Un'ulteriore accusa all'Ucraina si sta trasformando, Sicilia, questo fa il pari con un'altra cosa che ha colpito, cioè nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, gli americani avevano avvertito i russi, non so quel livello, ma nel livello di comunicazione fra di loro, che era in preparazione un attentato islamico, di natura islamica, da parte dei terroristi a Mosca, e Putin aveva detto non ci credo e...